salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è alessio evangelisti bene in questo brevissimo video vi vogliamo invitare a vedere un video che non sarà questo video questo è solamente un invito poi vi diremo come fare intanto vi faremo una brevissima presentazione praticamente ecco adesso ho aperto un attimino il video che in questo momento sta caricando e che poi vi diremo come fare per andarlo a vedere ripetiamo nuovamente allora in questo video ovvero nel video che poi voi andrete a vedere se avete il piacere parleremo di alcune tematiche molto molto ma molto importanti ovvero vogliamo vedere alla luce della parola di dio del perché una persona che magari si è comportata bene tutta la vita perché questa persona nonostante questo suo buon comportamento secondo la parola di dio potrebbe potrebbe andare all'inferno vediamo quello che dice la parola di dio poi andrete a vedere il video e vi specificheremo tutto quanto molto meglio dopodiché parleremo anche di alcuni vuoi o non vuoi questo argomento poi ci porterà a dover affrontare altri argomenti un altro su tutti è quello di approfondire il significato del verso che dice che la lettera uccide ma lo spirito vivifica cosa significa realmente questo verso alla luce appunto della parola di dio parleremo anche delle opere verso la fede qual è l'interazione fra opere e fede e a sua volta spiegheremo quali sono le opere e soprattutto quali sono le opere principali faremo un brevissimo accenno anche su maria se veramente maria sarebbe stata immacolata ovvero senza peccato anche questo se magari come già detto appunto in modo molto problematico comunque è un argomento che andremo ad affrontare dopodiché parleremo di molte altre tematiche che che appunto se volete appunto potrete andare a vedere nel video quindi come fare per vedere il video molto semplice allora sotto a questo video che voi state vedendo sotto c'è la descrizione poi casomai metteremo anche il link come commento in prima fila ma comunque se andate sotto la descrizione subito vi apparirà un link voi non dovete fare altro che cliccare su quel link ovviamente se poi qualcuno utilizza altri mezzi fuori dal computer tipo tablet iphone eccetera e non si apre noi magari lì non siamo esperti in iphone e tablet più che altro vi possiamo aiutare per quanto riguarda il pc quindi voi cliccate diciamo su quelle su quel link che troverete in descrizione e questo link vi catapulterà direttamente nel nostro sito che è www.casaceleste.org e lì troverete il video perché l'abbiamo caricato appunto nel nostro sito quindi in locale bene come fare poi una volta entrati nel sito adesso ve lo facciamo vedere e poi andiamo a chiudere questo video di invito appunto vogliamo attivare la navigazione virtuale come facciamo sempre ecco allora da questo momento siete sintonizzati con noi allora noi apriamo ok praticamente quando voi andrete a cliccare sul link che vi abbiamo appunto incollato nella descrizione del video sotto troverete questa pagina qua questo è il nostro sito questo questo video si trova in questa voce qua che c'è scritto nuovi video quindi che ne so facciamo finta che state qui ok praticamente non dovete fare altro che fare 1 2 3 4 5 cliccare sul quinto c'è scritto nuovi video ecco e qui c'è il il titolo del del video appunto perché chi si comporta bene tutta la vita potrebbe andare all'inferno poi si parlerà appunto degli ebrei eccolo qui la lettera che uccide lo spirito che vivifica opere o fede maria giusta e molte altre argomentazioni quando state qui potete cliccare o qui oppure potete cliccare qui una volta cliccato potete anche o cliccare qua oppure cliccare se qui in mezzo due volte velocemente o tre volte oppure su quello che vi comparirà in maniera tale da aprire diciamo la schermata in full screen e in questo momento è inutile che io ci clicco perché sta caricando in questo momento sta caricando però può darsi che quando questo video sarà disponibile può darsi che abbia finito come può darsi di no quindi se andate e il video non è disponibile significa che ancora sta caricando quindi dovete aspettare ci impiega un pochino perché io non ho la 100 mega quindi in upload navigo circa a 8 900 kilobyte mentre invece in download è molto più veloce ma chi se ne importa quello che servirebbe era l'upload vabbè forse un domani quando ci faremo la 100 mega allora che ci avremo 80 90 mega in in upload caricherà in mezzo ora però adesso ci vogliono ore dipende due tre quattro cinque sei ore di dipende quindi se se quando voi andate qui lo lo trovate fermo immobili che cliccate qua e non succede niente significa che ancora sta caricando io adesso aggiorno nuovamente la pagina riclicco no no è questo l'ho messa a caricare adesso ma nel frattempo siccome è notte tardi quindi cari fratelli e amici questo questo è stato l'invito per vedere questo video se poi pu da caso questo video di invito lo lo dovessero togliere beh allora ci inventeremo qualche altra cosa insomma i modi bene o male non dovrebbero mancare se dio vuole allora chiudo ok ho chiuso niente cari amici questo è stato l'invito e con voi è stato alessio evangelisti e se desiderate potete andare a vedere il video che dio vi benedica grazie per averci seguito anche questa volta ciao